Buongiorno, sono Bedonia Elisabetta, dal 2015 ad Ameno abbiamo un gruppo che è denominato le Tricottine e come progetto estivo quest'anno abbiamo proposto il Coloriamo tutti i muri perché Ameno ama i colori. Di che cosa si tratta? Si tratta di un insieme di piastrelle fatte all'uncinetto oppure fatte ai ferri delle dimensioni di 25x25 fatte con colori vivaci, bordate comunque tutte di nero perché devono avere questo filo conduttore che ci permette poi di unirle senza dover fare troppa fatica per via dei colori e queste piastrelle verranno poste all'entrata sud e all'entrata nord del nostro paese. Importante è comunque far passare il messaggio che Ameno è un territorio composto da un capoluogo e da tre frazioni e in queste frazioni le Tricottine per il progetto estivo penseranno di inserire nell'installazione che metteremo appunto a Vacciago, all'Ortallo e alle Cascine inserire gli animali che simboleggiano queste frazioni quindi Ameno avrà il cane e sarà un pannello di 70%, l'Ortallo avrà il gallo, Vacciago il maiale e le Cascine oltre Argonia avranno la Faina. Ci piace essere comunque un gruppo del territorio quindi tutte le persone che possono essere interessate a collaborare con noi, i miei riferimenti sono presenti sui vari articoli, abbiamo una pagina Facebook che è le Spenserate Tricottine quindi se volete cimentarvi con noi, noi siamo ben contenti.